Negli ultimi giorni la rete è stata inondata di immagini particolari, di illusioni ottiche create con l'intelligenza artificiale. Vediamone qualcuna e vediamo anche alcuni strumenti utili per realizzarle. In questi giorni il rete è un fiorire di immagini che creano un'illusione ottica all'interno delle quali si nascondono delle parole, per esempio, dei pattern particolari. Queste immagini sono state create grazie a modelli specifici come stable diffusion e control net che danno un massimo controllo sulla tipologia delle immagini e sulle forme che le immagini devono contenere e quindi al loro interno è possibile nascondere pattern, parole di qualunque tipo, tra cui anche QR code. Oggi vediamo alcuni degli strumenti più popolari che utilizzano questi modelli specifici per permettere a chiunque di ricreare queste immagini con illusioni ottiche al proprio interno. Il primo strumento in ordine di tempo che è nato si chiama Illusion Diffusion HQ e funziona all'interno degli spazi di Hugging Face. Poi vi lascio in descrizione il link per accedere. L'interfaccia è molto molto spartana, basta semplicemente utilizzare un pattern di esempio tra quelli che trovate qui che oppure si può caricare un nostro pattern, per esempio un pattern fatto con una nostra immagine anche molto semplice come quella che ho creato io. Dopo averla caricata si possono andare a selezionare alcuni dei valori nelle impostazioni. Il selettore più importante è quello che controlla la forza dell'illusione che si vuole andare a realizzare. Solitamente conviene tenerla intorno a un valore di 1, poi dipende molto dall'immagine che abbiamo realizzato dal nostro prompt che adesso andremo a vedere. In questo caso la metto su 071 e poi bisogna scrivere un prompt che sarà l'immagine sulla base della quale poi andremo a sviluppare questa illusione, il pattern che abbiamo caricato. Per esempio posso scrivere labyrinth, se voglio realizzare un labirinto con all'interno l'immagine Vincos, il testo Vincos. Posso inserire anche dei prompt negativi, cioè delle parole che vado a segnalare al sistema quello che non vorrei ritrovarmi all'interno, quindi low quality e degli artefatti per esempio. A questo punto basta premere il tasto run e aspettare. Ecco il risultato con un labirinto tra le cui colonne si scorge il nome Vincos, insomma il risultato che lascia un po' a desiderare che andrebbe migliorato agendo tra i settaggi. Questa è un'altra immagine che ho creato caricando il logo dell'azienda Plenitude accoppiato al prompt relativo a un prato verdeggiante. Come vedete l'illusione è ben riuscita, quindi questo tipo di attività può essere anche molto utile da accoppiare al logo di un'azienda. Il secondo tool che andiamo a vedere si chiama Patterns dell'azienda Crea ed è un tool molto semplice. C'è questa interfaccia molto spartana, qui si inserisce un prompt, si sceglie un pattern tra quelli che sono predefiniti oppure si può caricare un proprio e si può anche utilizzare la funzione testo per creare un pattern attraverso semplicemente l'input di un testo. Facciamo subito una prova caricando un nostro pattern, per esempio Vincos che abbiamo visto prima, scegliendo un prompt che può essere cityscape night photography e a questo punto tra i settaggi si possono scegliere la forza del pattern importante per far sì che lo strumento riesca a bilanciare tra immagine, quindi prompt che dà vita all'immagine e pattern. Qui solitamente si sceglie qualcosa intorno al valore dell'uno, proviamo con 0.95. Guidance scale invece è un valore che serve a far capire al sistema quanto deve aderire al prompt che noi abbiamo scritto, quindi un valore alto ci produrrà un'immagine molto vicina al prompt che abbiamo scelto. Poi c'è la possibilità di inserire anche dei prompt negativi, per esempio bad quality, low resolution, image with artifacts e anche il numero di steps che vogliamo che il sistema faccia. Ovviamente più step li facciamo fare più avremo un'immagine dettagliata. Per il momento fermiamoci a 30 e andiamo a generare la nostra immagine. Ecco la nostra città notturna con dei grattacieli che danno vita al pattern Vincos, insomma non è bellissimo, proviamo a generarne qualche altro. Beh questo sicuramente è molto molto meglio. Ora proviamo con qualcosa di diverso, per esempio cambiamo pattern, carichiamo il logo di un'azienda, per esempio l'azienda OpenAI che ha un bel logo con molti pieni all'interno e con delle linee sottile che vanno da contorno allo stesso logo, questo di solito è molto utile per creare qualcosa di carino. Per esempio posso scrivere motherboard, quindi una scheda madre e posso provare a far fare la generazione con il logo di OpenAI, azienda creatrice di ChatGPT e da lì. Ed ecco la nostra scheda madre con il logo di OpenAI, esecuzione perfettamente riuscita. Ho fatto anche degli altri tentativi, per esempio con un labirinto, lo vedete qui, anche questo abbastanza riuscito. Ultimo tool che andiamo a testare si chiama Fusion ArtAI, anche questo disponibile gratuitamente, basta semplicemente registrarsi magari con il proprio account di Google o Discord. Ecco l'interfaccia anche qui molto semplificata, c'è la parte con i pattern da scegliere che sono appunto i soliti pattern stile illusionistico. Si può inserire qui un prompt a caso, per esempio cityscape sunset e scegliere anche un font, se ne sono soltanto due, mettiamo inter, l'aspect ratio che si può inserire, scegliamo uno a uno e il peso dell'illusione appunto. Proviamo a fare una prima generazione. Ecco la prima immagine, vediamola meglio, effettivamente c'è questo effetto di illusione anche se è un po' troppo evidente, troppo marcato, però anche qui si potrebbe lavorare sui vari settaggi per andare a perfezionare il tutto. L'altra sezione è quella per l'aggiunta di un testo, quindi anziché un pattern si può lavorare su un testo che noi scegliamo, del quale si può appunto decidere anche la grandezza e aggiungere sempre il nostro prompt, quindi cityscape sunset, sempre ratio 1 1, il weight in questo caso 2, proviamo a scendere a 1 e poi andiamo a generare. Vediamo l'immagine, qui l'effetto dell'illusione è molto meno evidente, ma potremmo andare a giocare con i parametri per migliorarlo. Facciamo l'ultima prova con la sezione upload, dove qui appunto si può caricare il nostro, la nostra immagine che si vuole. Anche qui proviamo con questa di OpenAI e proviamo a scrivere motherboard in modo da testare più o meno lo stesso prompt di prima. Generiamo. Beh sì, c'è l'illusione del logo anche se meno marcata, si dovrebbe migliorare attraverso il settaggio dei parametri nel modo più opportuno. C'è anche una sezione di community feed che ci fa vedere le realizzazioni fatte dalla community e infine questo software ci mette a disposizione anche la possibilità di generare un QR code funzionante all'interno delle nostre immagini immagini illusorie che possiamo creare come queste qui. Quindi questo mi sembra un tool un po' più strutturato rispetto agli altri, ma comunque tutti quanti sono interessanti, vanno testati. Non è facile a primo a kit individuare qual è l'opzione giusta, il settaggio giusto, però insomma col tempo si riesce a creare delle cose molto carine. Questo degli strumenti che servono a creare delle immagini con delle illusioni all'interno è un trend probabilmente passeggero dell'intelligenza artificiale generativa, ma comunque può essere utile, carino, interessante come divertissement da utilizzare all'interno di social media post per esempio, quindi per cavalcare il trend, per creare qualcosa di affascinante che attiri l'attenzione dei lettori e degli utenti, che li faccia fermare a scoprire, a scovare l'illusione contenuta nell'immagine. Se create delle illusioni particolarmente efficaci, linkatemele nei commenti, le vediamo insieme e ovviamente per altre novità sul tema dell'intelligenza artificiale generativa e del marketing vi do l'appuntamento al prossimo video. Alla prossima!